Allora oggi una riflessione breve che esce un po' dai canoni diciamo classici ecco dei miei video e una riflessione seria su una categoria di persone che secondo me sono probabilmente i peggiori presenti nelle piattaforme social. Quelli che mettono sempre la faccina che ride sotto delle notizie drammatiche per non dire tragiche tipo il barcone che affoga nel Mediterraneo con donne e bambini che muoiono affogati faccina che ride situazione israelo palestinese e oppure che ne so una donna che muore ammazzata di botte dal compagno magari incinta faccina che ride. Allora c'è questa categoria di persone sono degli emeriti imbecini proprio sceni poveretti loro la natura è stata aggressiva con loro facendo rinascere o crescere idioti e mi può anche dispiace sotto quel punto di vista lì ma sono persone che non devono stare nei social e allora un appello a facebook, a instagram invece di questi algoritmi che basta che dico magari stronzo o a un amico mio magari per scherzo e magari vengo allontanato da internet a me non è successo mai forse una volta vengo allontanato da facebook perché l'algoritmo dice che la parola era aggressiva invece di queste cazzate così allontanate adesso parlo, forse mi monta un po' la testa non mi cagherà nessuno allontanate quelli che mettono la faccina sotto la notizia della tragedia perché quelli imbecilli lì sono pericolosi io temo molto l'idiozia, temo molto l'imbecillità di queste persone veramente che non capiscono nulla e mettendo la faccina stanno urlando al mondo ehi guardate un po', io sono proprio imbecille, guardate un po' la faccina che ho messo sono proprio io, sono un idiota, non capisco proprio niente non capisco niente, non ho cervello, sono un stupido ovviamente è inconsapevole di dirlo altrimenti non sarebbe scemo allora queste persone che mettono le faccine, che ridono sotto le notizie tragiche vorrei fossero espulse, ma per sempre, non per una settimana dai social, dai social media perché a me l'imbecillità, questa scemenza, questa idiozia la stupidità a me spaventa perché se il mondo va così, per alcuni aspetti, molti aspetti così male è proprio per colpa degli idioti, degli scemi non per colpa dei cattivi, perché i cattivi, le persone veramente malvagie, crudeli sono poche, ma sono potenti perché sono circondate da imbecilli che le assecondano a me spaventa a me spaventa a me spaventa a me spaventa